Buongiorno ragazzi, io sono Valle03 e oggi siamo con... Oggi diciamo che è sempre la solita challenge, non ripetiamo, però c'è una sfida all'interno. Con quattro stelle. Esatto, con quattro stelle. Con cinque stelle perché non c'è quattro stelle. Ragazzi, cinque like e imito la voce di Luis nel prossimo episodio. Adesso andiamo subito con l'invito. Chris manda l'invito. Ok, l'invito è arrivato, devo solo accettare. Ok raga, facciamo start battle. Intanto sento il rumore di vento. Cri, che cosa sta succedendo? È il ventacchio. Allora, io me ne scelgo i tre più forti che ho. Black Goku, Rosé, Zamasu e Goku Super Saiyan God. E vabbè, sì, i soliti. Intanto non so se si è sentito, ma ho un orologio che adesso ho tolto. Ah! Mi posiziono. Ok, ok, adesso siamo pronti. Ok raga, ci siamo. Vediamo che inizia. Ok, inizio io. Però lagga un botto. E vabbè. Ma che raga, sono fortissimo, fortissimo cazzo. È rosso su giallo. E' vero che lagga un botto? C'è, in realtà se lagga a te, perché se lagga a uno lagga pure la Versailles. Vai Black Goku, Mamma mia fortissima, raga. Mamma mia fortissima. È rosso su giallo. Cazzo, però Però mi ha ridotto il fin di vita Il mio Black Goku Cazzo No No, merda Ok, questa è la final Non si preoccupa che c'è una sorpresina Eccolo là Eccolo là Quanto lag, raga, c'è la connessione C'è tipo La memoria pienissima per questo Successo, grazie Oh, forse ti ho battuto, sai Oh, no Aspetta, niente è finito Niente è finito No Che culo, cazzo No, sto Tranks non finisce mai C'è zero di chi, però Aspettate Eh, sì, pure là No, cazzo Ho fatto poco Merda Mo' ti blocco No, non ci sono riuscito È la prima volta che non ci riesco Mi sa che mi batti, eh Eh, infatti Oh, te ho scrivuto da Rising Rush No, no, no Lo dovevo abbinare a qualcuno No, 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 aspetta, aspetta, no No Sì, è per la prima volta Vinco Allora, diciamo che Con 5 stelle e non con 3 Allora, diciamo che il video è finito qui Perché sono 4 minuti E posso fare oltre Perché se no, il telefono tipo esplode Eh, ci vediamo al prossimo video Nel prossimo video Vi limito Eh, 5 like Vi limito appunto Whiz Eh, lasciate like Eh? Sarà 6 stelle Quindi il prossimo video Sarà 6 stelle Sì, 6 stelle E poi arriviamo al 3 contro 3, ragazzi Vi vedete cosa succede con 3 contro 3 Allora Mi invito a lasciare like Commentare Condividere il video Io e Cristiano di 70 Vi diciamo Arrivederci Vero? Alla prossima Bella Sì